Sport olimpico dai giochi invernali del 98, divenuto famoso con Torino 2006 e consacrato con il primo oro azzurro a Pechino. Il curling è lo sport di punta del giovedì sera a Vinadio. Si ritrovano alla pista di pattinaggio del Forte Albertino per allenarsi e gareggiare. Giovedì 24 febbraio ci sarà la finale in notturna del campionato provinciale a sei squadre. I tesserati a Vinadio sono ben 40, un numero importante considerato che in Italia sono 333. Nessun atleta di vertice ma tanta voglia di divertirsi, anche se non si sa mai. E per il prossimo anno la polisportiva vinadiese presieduta da Stefano Carisana punta ad organizzare un campionato nazionale. Grazie! 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 Grazie!